Buongiorno a tutti, io mi chiamo Alessia Domenichini, sono una studentessa universitaria, sono già in possesso di un titolo di laurea in scienze dei beni culturali e attualmente sto prendendo una specializzazione sempre in storia dell'arte. A livello accademico faccio parte anche di un gruppo di ricerca istituito dall'Ateneo che si occupa della ricerca appunto in ambito storico-artistico e soprattutto architettonico, quindi il mio ambito è quello culturale, in modo particolare quello artistico. Io ho deciso di dare il mio appoggio in qualità di candidato a Giulia perché ritengo che in questo momento sia quanto mai fondamentale andare a contrastare quelle che sono le spinte populiste, le spinte di questa politica aggressiva che deriva dall'esito delle elezioni politiche dell'anno scorso e in qualità di studentesse e quindi di personaggio attivo nell'ambito culturale e di socialista che è il partito che mi ha appoggiato. Ritengo appunto di voler andare a portare la mia esperienza in ambito culturale che è fondamentale secondo me per l'amministrazione di un paese e soprattutto cercare di ricuscire grazie a quella spinta laica che contraddistingue il nostro partito, quella frattura che si è creata tra chi in questi momenti è sempre più lontano dalla politica. Per questo motivo io ho deciso di dare il mio appoggio a Giulia. Grazie.